Le piante grasse non hanno bisogno di cure molto specifiche e frequenti, però la cosa principale che loro ci chiedono sono le tipologie di innaffiatura che praticamente sono diverse ma abbastanza simili tra di loro. Praticamente la spinosa o cactacea lei ha bisogno come base all'incirca di una volta al mese, mentre invece la succulenta lei ne ha bisogno con una frequenza massima di ogni 15 giorni all'incirca. L'importante è assicurarsi perché tutto questo può cambiare in base a dove loro vengono diciamo coltivate, che da noi possono essere coltivate in balconi, in terrazzi, in giardino, giardino d'inverno, che è molto importante per loro la luce perché con la luce praticamente per loro è vita e in base a questo può cambiare la tipologia di innaffiatura che va lei da fine marzo a fine novembre con una frequenza all'incirca di una volta al mese e lei di ogni 15 giorni per sempre, cioè praticamente tutto l'anno. Diciamo che le attenzioni sono minime per loro quindi basta ricordarsi di loro che loro ci daranno il meglio di sé con pochissime cure.